Come vedete oggi la festa è stata simbolica, avremmo voluto festeggiare in modo diverso, come il nostro slogan è esserci sempre e quindi il nostro obiettivo è quello di stare in mezzo alla gente perché la collettività civile è la nostra ragione di esistere, il nostro servizio per la collettività civile. All'ormai popolare hashtag della Polizia di Stato esserci sempre, quest'anno in piena emergenza se ne affiancano altri due più che mai attuali. Io resto a casa e andrà tutto bene. È stata infatti una festa lontana dalla gente, quella per il 168esimo anniversario della Fondazione della Polizia. Le celebrazioni di fronte alla questura si sono limitate alla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti per poi riprendere il continuo lavoro di controllo del territorio per far rispettare le misure anti-Covid-19. Abbiamo messo la corona ai nostri caduti e qui aggiungerei i nostri morti per coronavirus. Questo è un dato che va sottolineato perché mentre gli hashtag che impera per ora giustamente io sto a casa, noi siamo per strada e anche i poliziotti e le poliziotte hanno famiglia, hanno figli e quindi cerchiamo di tutelarci tutelando la collettività. Dall'inizio dell'emergenza la Polizia di Stato ha effettuato 850 pattugliamenti su tutto il territorio provinciale impiegando il personale della questura, dei commissariati e delle specialità. Purtroppo, dobbiamo dire con grande amarezza, c'è ancora chi non ha capito la gravità della situazione. Non ha capito la gravità della situazione. E il signor Prefetto, le forze di polizia si sono spese, si spendono, si spenderanno per far capire questa cosa. Nel bilancio di un anno invece sono stati 132 gli arresti, 731 invece le denunce. Sono stati poi segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti 142 soggetti, sequestrati complessivamente 54 kg di sostanze stupefacenti, 17 piante di cannabis e 26 mila litri di gasolio di provenienza illecita. Tutti i dati sia su Arezzo che sulla provincia sono in calo. Certamente, come sapete, non si può rispondere alle esigenze della popolazione soltanto enunciando delle statistiche. Ma le statistiche e i dati sono la rappresentazione plastica dell'impegno della Polizia di Stato e delle altre forze consorelle. Comunque, i dati sono in calo sotto quasi tutte le voci. Speriamo che possiamo rimanere su questo standard. Volevo approfittare per augurare a tutte le poliziotte e poliziotti della provincia di Arezzo buona festa della Polizia e soprattutto buona Pasqua a loro e alle loro famiglie che come sempre per chi fa questo mestiere sopportano il peso maggiore del nostro mestiere. Quindi dal profondo del cuore grazie per il vostro impegno, grazie per quello che state facendo per la collettività aretina e per la provincia di Arezzo. Speriamo bene. Forza, forza. Grazie.